ANSA, Torino, 21-8, nuovi controlli per Andrea Bellotti, attaccante del Torino, e della Nazionale alle prese con un infortunio al ginocchio. Il giocatore si sta recando a Perugia, per un controllo dal professor Giuliano Cerulli, celebre chirurgo ortopedico. Il controllo, spiega il tecnico del Torino, Sinisa Miagiovic, in conferenza stampa, per capire se l'infortunio si è cicatrizzato. Il ginocchio, aggiunge, gli fa ancora un po' male al tatto. Per questo gli ho detto di non toccarlo. Vedremo oggi quello che ci diranno, speriamo di recuperarlo per l'Inter, cosa che consentirebbe all'attaccante anche di essere convocato in Nazionale per gli spareggi mondiali.